900.000 euro di offerta per acquistare gli impianti sciistici di Prati di Tivo e Prato Selva, beni della Gran Sasso Teramano in liquidazione da tempo. E' questa l'unica proposta pervenuta alla scadenza del bando di vendita dall'attuale gestore degli impianti, la Marco Finori SRL. Si è proceduto così all'assegnazione provvisoria, poi ratificata dall'Assemblea dei Soci. La Commissione incaricata ha registrato anche l'arrivo di una seconda busta, quella inviata dalla Siget, che ha gestito per anni gli impianti della zona. Questa non conteneva però un'offerta di acquisto, ma l'elenco di una serie di motivazioni che avrebbero impedito alla Siget stessa di presentare un'offerta. Il liquidatore della società, Gabriele Di Natale, ha precisato che ai rilievi descritti si è già dato puntuale riscontro in maniera ufficiale. Il 30 settembre, quindi, la Gran Sasso Teramano incasserà la prima rata. Le altre quattro, da 200 mila euro l'una, dovranno essere versate annualmente per quattro anni e la proprietà delle piste e dei beni della Gran Sasso, tra Prati di Tivo e Prato Selva, potrà dirsi perfezionata solo al termine del pagamento. Nei beni venduti non è compresa la cabinovia, che non è mai stata conferita dalla provincia alla società e che è compartecipata anche dalla Camera di Commercio, dalla Regione Abruzzo, dalle Habstuk di Pietracamela e Intermesoli, cioè le amministrazioni dei demanicivici. La Marco Finori, nel pacchetto, eredita la convenzione tra la Gran Sasso Teramano e la provincia per la gestione della cabinovia, convenzione che scadrà nel 2028 e che prevede un canone a favore della provincia di 20 mila euro l'anno. L'Assemblea ha poi dato mandato al sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, di avviare un dialogo istituzionale con le Habstuk che, a seguito del mancato pagamento dei canoni, hanno sospeso la concessione dei terreni sui quali insistono gli impianti di risalita e la cabinovia, concessione indispensabile per riaprire gli impianti e ripartire con la stagione estiva.